Ciao Bollinga. Impara le lingue più velocemente. Impara a parlare inglese. Viaggi e trasporti. Livello avanzato. Per favore sostenici iscrivendoti a questo canale. Il mio bagaglio è mancante. My baggage is missing. The prices here are very expensive. I prezzi qui sono molto costosi. The prices here are very expensive. The name on the ticket isn't spelled correctly. Il nome sul ticket non è scritto correttamente. The name on the ticket isn't spelled correctly. I'm afraid you have been bumped from this flight. Temo che sia stato urtato da questo volo. I'm afraid you have been bumped from this flight. I'm afraid you have been bumped from this flight. It may be difficult to get a ticket. Potrebbe essere difficile ottenere un biglietto. It may be difficult to get a ticket. It may be difficult to get a ticket. Qual è il costo per noleggiare un'auto di lusso? What is the cost to rent a luxury car? What is the cost to rent a luxury car? Is it possible to upgrade to first class? È possibile eseguire l'upgrade alla prima classe? Is it possible to upgrade to first class? Is it possible to upgrade to first class? The company was deceptive in its advertising. La società è stata ingannevole nella sua pubblicità. The company was deceptive in its advertising. The company was deceptive in its advertising. I am very frustrated with this company. Sono molto frustrato da questa azienda. I am very frustrated with this company. I am very frustrated with this company. My baggage is missing. Il mio bagaglio è mancante. My baggage is missing. They exaggerated the space on their planes. Hanno esagerato lo spazio sui loro aerei. They exaggerated the space on their planes. They exaggerated the space on their planes. The prices here are very expensive. I prezzi qui sono molto costosi. The prices here are very expensive. The prices here are very expensive. I have insurance coverage through my own company. I have insurance coverage through my own company. The name on the ticket isn't spelled correctly. Il nome sul ticket non è scritto correttamente. The name on the ticket isn't spelled correctly. The name on the ticket isn't spelled correctly. They are complaining about the service on the cruise. Si lamentano del servizio in crociera. They are complaining about the service on the cruise. I'm afraid you have been bumped from this flight. Temo che sia stato urtato da questo volo. I'm afraid you have been bumped from this flight. I'm afraid you have been bumped from this flight. Can I get a refund on the tickets I purchased? Posso ottenere un rimborso sui biglietti che ho acquistato? Potrebbe essere difficile ottenere un biglietto. It may be difficult to get a ticket. Do I need to clear customs to get to the other terminal? Devo cancellare la dogana per arrivare all'altro terminale? Do I need to clear customs to get to the other terminal? Qual è il costo per noleggiare un'auto di lusso? What is the cost to rent a luxury car? Quali sono le opzioni di trasporto di terra? What ground transportation options are there? Is it possible to upgrade to first class? È possibile eseguire l'upgrade alla prima classe? La società provvederà a rimborsare le spese di viaggio. The company will reimburse your travel costs. La società è stata ingannevole nella sua pubblicità. The company was deceptive in its advertising. Il biglietto di gruppo è meno costoso. Sono molto frustrato da questa azienda. Sono molto frustrato da questa azienda. I am very frustrated with this company. I recommend taking this airline. Raccomando di prendere questa compagnia aerea. Hanno esagerato lo spazio sui loro aerei. They exaggerated the space on their planes. Il viaggio per l'aeroporto era estenuante. Il viaggio per l'aeroporto era estenuante. I have insurance coverage through my own company. Ho una copertura assicurativa per la mia azienda. I prezzi dei biglietti sono stati molto bassi recentemente. Si lamentano del servizio in crociera. Posso ottenere un rimborso sui biglietti che ho acquistato? Devo cancellare la dogana per arrivare all'altro terminale? Quali sono le opzioni di trasporto di terra? La società provvederà a rimborsare le spese di viaggio. Il biglietto di gruppo è meno costoso. Il biglietto di gruppo è meno costoso. Raccomando di prendere questa compagnia aerea. I recommend taking this airline. TABOLINGA Impara le lingue più velocemente. Per favore sostenici iscrivendoti a questo canale.